Caorle, un 41enne di quarto d'altino, interpretando ben tre ruoli diversi, ha spillato decine di migliaia di euro a un noto ristoratore. La vicenda si trascinava da tempo e in una prima fase la vittima non ha collaborato, non solo non denunciando quanto stava accadendo, ma avvisando anche il ricatatore che le forze dell'ordine stavano indagando. In sintesi, l'imbroglione, imitando al telefono le voci di due finanzieri e presentandosi di persona come intermediario, aveva convinto l'esercente a versare soldi per recuperare un'ingente somma depositata in Austria. I carabinieri l'hanno prima identificato e poi bloccato durante l'ultima consegna di denaro. Si sarebbe impossessato di quasi 40.000 euro.